Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, faccio questo video abbastanza rapido perché ieri sono stata dal cinese, non so se da voi ci sono, ma penso di sì, ci sono questi grandi store cinesi che vendono tutta roba di tutti i tipi, dalla mensola al giardinaggio o qualsiasi roba. Qui da noi ci sono questi grandissimi store e sono andata perché cercavo la tela, tipo tulle, per ricoprire gli alberi da frutto che purtroppo, altrimenti i frutti vengono intaccati dagli insetti. Siccome su internet o nei negozi specializzati costano una follia, sono andata a guardare se avevano questa rete, non ce l'avevano purtroppo, o meglio ne avevano un tipo che era però troppo rigida, che era quella per le zanzariere, ecco in poche parole, quindi non andava bene. Però, non so se da voi ci sono, ma questi negozi cinesi hanno lo store dell'Astra, l'Astra è una casa cosmetica italiana, che però si trova nei negozi cinesi oppure online. Negli altri negozi non ce l'hanno mai, e quindi io ho approfittato e ho preso qualcosina, adesso ce l'ho qua, ve lo faccio vedere, non le ho tolti dal sacchetto proprio per farveli vedere. Ho preso qualcosina, niente di che, in realtà non sono cose nuove, sono cose nuove per me, perché non le avevo mai provate. E quindi ho detto, ok, proviamo. Allora, da promettere che era abbastanza fornito come store, aveva parecchie cose, di solito hanno soltanto un piccolo store, piccolissimo, un piccolo stand, dove hanno le solite cose dell'Astra. Invece questo era abbastanza fornito, da promettere che andavo abbastanza di corsa, quindi non ho potuto guardare bene, mi riprometto di tornarci. Allora, cosa ho preso? Ho preso due prodotti di skin care e tre prodotti di make up, che poi make up, in realtà, raga, sono sempre le cose che io uso di più. Allora, partiamo dal skin care. Allora, è uscita, penso, o l'anno scorso, o due anni fa, forse l'anno scorso, l'Astra Skin, che è questa linea make up, skin care. Dunque, avevano tantissime cose, detergenti, tonico, maschere viso, maschere labbra, tantissime cose. Però io, raga, come sapete, non ho, ho tanta roba, anche se stamattina ho fatto decluttering di un po' di roba che dovevo buttare, che avevo quasi finito, che non mi era piaciuta, quindi l'ho buttata via e basta. Per cui ho preso soltanto due cose. La crema viso e il contorno occhi, che sono le cose che uso di più e che finisco prima. Perché, contate che io faccio fuori un contorno occhi e una crema al mese. La crema notte è un po' meno, riesco a durarmi anche due mesi, ma la crema giorno la faccio fuori in tempo zero. Perché ne uso tantissima. La riapplico più volte durante il giorno, perché uso la crema solare, quindi... Ecco, allora, ho preso la crema viso, questa è il 95% di origine naturale. L'inci è buono e contiene veleno di vipera... Quanto veleno ci sarebbe qua? Una produzione infinita, lasciamo perdere. Questo contiene veleno di vipera e flavonoidi della soia. È un anti-age. Perché il veleno di vipera si usa come anti-age. Cosa fa il veleno di vipera? Va a stimolare la produzione di collagene. Perché? Fondamentalmente fa la stessa cosa del retinolo. Va a irritare la pelle per produrre collagene. È un processo meccanico. Solo questo fa. Quindi fa una sorta di microesfoliazione che stimola la produzione di nuove cellule, di collagene. Questo è il lavoro che fanno i retinoidi. Il retinolo è tutto, veleno di api, veleno di vipera. Questo è il loro lavoro. Stimolano la produzione di nuove cellule per rinnovare la pelle. Quindi questa è quella al veleno di vipera. È buona. Cioè, ho provato il campione. È molto ricca. Molto profumata. Un buon profumo. La texture mi piace. Ho visto il campione e mi piaceva. Ho detto, vabbè, la prendo. Non è costata tanto, raga. Perché contate che questa è costata sugli 11 euro. Questo sui 6 euro, più o meno. E poi le altre cose vi dico i prezzi. Dunque, la voglio provare. La voglio provare e vi saprò dire com'è. Perché non lo so. Ho visto solo la texture e l'odore. Mi piacevano. Ho detto, ok. Sembra una buona crema. Sembra una buona crema. L'astra, questa nuova linea, questa linea della skin, io non l'avevo mai vista. Perché? Raga, c'è sul sito. Sul sito c'è tantissima roba. Però io a comprare roba su internet, senza poterla provare, testare, vedere se il colore va bene, non compro niente su internet io. Di queste cose. Allora, qua c'è scritto. Crema viso, dalla texture ricca, ma dal rapido assorbimento. Ideale per pelli normali, secche, spente e mature. Grazie alla sua speciale combinazione di ingredienti di piano. Si fonde sulla pelle. Raga, è scritto sul rosa, è scritto piccolissimo. E io da vicino non ci leggo più. Quindi, abbiate pazienza. Si fonde sulla pelle e conferisce nutrimento e comfort per un incarnato visibilmente luminoso e setoso modo d'uso. Vabbè, questa è una crema giorno, fondamentalmente. Allora, io adesso tendo a usare una sola crema, giorno e notte, tranne quella al retinolo. La crema al retinolo di giorno non andrebbe utilizzata, perché è fotosensibilizzante. Ma anche questa, che ha il veleno di vipera, di solito si evitano questi prodotti così irritanti durante il giorno. Io di solito, di un giorno, uso quella, la crema gel. Quella della Yes Tu, al watermelon. È leggera, non va a creare grossi problemi, anche perché io poi sopra metto la protezione solare. Quindi questa ve la farò, vi farò sapere com'è. Questo è il contorno occhi tonificante antifatica. Contiene caffeina, contiene acido ialuronico. L'avevo finito il contorno occhi, fondamentalmente. Perché quello della Wicon l'ho finito, ma non mi ha entusiasmata più di tanto, quindi non lo ricomprerò. Anche perché, raga, non so se notate, ma adesso oltre all'occhiaio a me sono venute delle simpatiche borse, che io non ho mai avuto. E penso che sia ritenzione idrica dovuta all'assunzione degli ormoni. Ah, un'altra cosa vi volevo dire. Mi sto trovando molto molto bene con il prodotto alla base di polline, il Femal, che sto prendendo per le caldane. Si sono ridotte molto. Non sono sparite del tutto, però si sono ridotte molto. Quindi mi sto trovando bene. Ed è, sono appena due settimane che lo sto prendendo. Quindi, spero che andando avanti, migliori ancora di più la resa. Però vi dico che funziona. Funziona, raga, funziona. Io non ci credevo, però funziona. Allora, cosa ho preso di make-up? Ho preso tre cose. La BB Cream, questa qua della Pure Beauty, che è quella linea al 90% di origine naturale. Questa è leggera, raga. Texture leggera. Io ho preso la 01 Fair, che ve lo dico a fa' quella più chiara. Cioè, ragazzi, che ve lo dico a fare. Perché già la 2 era troppo scura. Ci sono quattro colorazioni. La 2 però già era troppo scura per me. Quindi ho preso la 1. Leggera. È una BB Cream idratante. Ha così la pompetta, che è molto più igienica per me. E devo dire che è bella. Setosa. Si stende subito, si stende velocemente, almeno la prova che ho fatto. Ed è media coprenza. Non è super leggera, è media coprenza. È una BB Cream naturale, idratante. La proverò, la proveremo insieme. Magari facciamo un trucco. Poi cosa ho preso? Il Lip Stain di Astra. Io già questo lo conoscevo. Avevo preso un altro colore, però. Ho preso lo 01 Sorbet. Avevo preso un altro colore. Avevo preso lo 02, mi sembra. Che però era troppo aranciato. Infatti l'ho dato a mia mamma. Questo che cos'è? Non è un gloss. Non è un rossetto. Praticamente voi mettete questo. È come acqua. Lo mettete. E vi tinge le labbra. A me serve un prodotto che io non devo stare a sentire se svapo la sigaretta elettronica e mi si appiccica tutto qua. Perché è una cosa che non tollero. Quindi io applico questo. Si asciuga. Diventa praticamente come acqua, raga. È acqua. Voi lo mettete. E ha un effetto tatuaggio, ecco. Ha un effetto tatuaggio. Rimane il colore per tutto il giorno. È bellissimo questo. Avevo lo 02. Però lo 02 era troppo aranciato. Quindi l'ho passato a mia mamma. Ho preso lo 01 Sorbet. E l'ultima cosa. Questa è una novità. È il Lip & Cheek di Astra. Praticamente sembra una tinta. La tinta labbra classica di Astra. In realtà questo fa sia da rossetto. E non l'ho preso per questo. Sia da blush. Raga, l'ho messo. L'ho messo. Ho fatto la prova. Perché con il tester ho fatto la prova. E poi non si toglieva nemmeno con le cannonate. Che è la cosa che mi interessa. Fondamentalmente. Perché col sudore. A me purtroppo. Il trucco tende a sbavarsi. Se non è waterproof. Perché? Io sudo in faccia. Io è l'unico posto dove sudo. In faccia. In faccia. Tutto qua attorno. È l'unico posto dove sudo. Quando mi vengono le caldane. E sono fuori. E sono truccata. Mi sciolgo. Mi sciolgo. Per cui ho detto. Lo voglio provare. È non transfer. Quindi non lo trasferite. Se vi spogliate. Se vi cambiate. Non lo trasferite. E poi è a lunga tenuta. Raga. È veramente a lunga tenuta. Cioè io l'ho provato ieri sulla mano. E se vedete ancora. Ciò. No. Non si vede tanto. Ma ciò. Il segno. Io ieri mi sono. Mi sono lavata le mani. Un sacco di volte. Mi sono tolta. Con la salvietta strucca. Non ci poteva niente. A farlo venire via. Quindi. Questo mi interessa. Ho preso. Lo 01. Boho. Ce ne sono quattro colorazioni. Una è questa. La seconda era molto carina. Però purtroppo. Avevano solo il tester. Era finito. Il prodotto. Le altre due erano. Una sul marrone. Che poteva essere usata. Credo anche per fare contouring. E la quarta. Che era molto rosso. Molto rosso. Troppo. Troppo scuro per me. Forse adatto alle carnagioni. Un po' più scure. Questo è un. Un rosa bellissimo. Un rosa Barbie bellissimo. Non lo apro. Perché. Facciamo un get ready. Poi insieme. Magari domani. No. Domani non credo. Perché domani non devo uscire. Forse venerdì. Sì. Venerdì facciamo insieme un get ready. Che devo uscire. Perché io non mi trucco. Se non devo uscire raga. Non mi trucco. Se non devo uscire. Bene. Questo è quanto. Sono curiosa di provare la crema. La proverò. Sono proprio curiosa. E il contorno occhi. Questi li proviamo poi. Magari. Li mettiamo insieme. Prima del trucco. Vediamo. Vediamo. Vi farò poi una recensione ovviamente sulla lunga durata. Perché una crema è impossibile. A parte la texture. L'odore. E se vi piace la sensazione che lascia sulla pelle. Più di questo all'inizio uno non può sapere. Le creme. I prodotti di skin care. Si rivelano sul lungo utilizzo ovviamente. Per esempio. Siero e contorno occhi della Wicon. Che non li comprerò più. Perché. Robetta proprio. Non è adatta alla mia pelle. Che è già matura e più esigente. Così come non. Non sto prendendo più i sieri della Revolution. Perché sono. Semplici. Troppo semplici. Una pelle più matura. Richiede a più esigenze. Mentre una pelle giovane. Di una ragazza di vent'anni. Ci puoi spiaffare anche l'acqua fresca. E va bene. Però una pelle matura ha più esigenze. Quindi deve richiedere un qualcosa in più. Per questo dovete imparare a leggere l'inci. È molto importante. Perché per esempio. Una crema che ha il retinolo in fondo all'inci. Non vi serve. Perché il retinolo è in scarsa concentrazione. Per essere. Una buona crema al retinolo. Deve tenere il retinolo. Nelle prime 5-6 posizioni. Idem per l'acido ialuronico. Idem per la vitamina C. Devono essere alti in inci. Altrimenti la concentrazione è troppo scarsa. E buttate solo soldi. Ve lo dico. Buttate solo soldi. Se una crema ha nelle prime 5-6-10 posizioni. dei siliconi. Non servirà a niente. A niente. Nelle posizioni. Nelle prime posizioni. Ci devono essere gli attivi. Retinolo. Vitamina C. Tocoferolo. Acido ialuronico. Devono essere nelle prime 10 posizioni. Altrimenti. Risparmiatevi soldi. Perché non serviranno a niente. Bene. Vi saluto. Vi ringrazio. Al prossimo video. Ciao.